Vi danno benvenuto qui a Napoli in anticipo sull'orario previsto, sono quasi le 5, recentemente rimanete seduti con le cinture lanciate fin quando l'aereo avrà raggiunto la fase finale di parcheggio e se le cinture sarà stato smette dal comandante. Fate molta attenzione nell'aprire le capelliere, i bagagli all'interno potrebbero essersi rislocati durante l'atterraggio, computer, apparecchiature elettroniche di grandi dimensioni, mantenetele spette e nel bagaglio a mano, mentre i cellulari e i tablet più piccoli possono utilizzare la connessione internet. Qualora abbiate fatto acquisti a bordo questo pomeriggio, scaricate la ricevuta dal sito runnerseed.com o aprite la nostra app. Ricordiamo ai passaggieri che fumano che è possibile farlo solo nelle aree fumatori che si trovano all'interno o all'esterno dell'aerostazione. Quello dei quali invece cercassero l'autonaleggio, vi ricordiamo che il Eurocarb è uno sconto fino al 30%. Per maggiori informazioni sulla nostra azienda e servizi aggiuntivi, state runner.com A noi tutti noi grazie e buon divertimento qui a Napoli e in Campania.